Stiamo organizzando un campionato per il capannone e stiamo lavorando le poste, stiamo fanno i buchi per terra, ci sono tanti persone, tanti bambini e siamo a Borgo Vecchio che aiutano a ricostruire il campo, stanno portando la rete e domani facciamo il campionato. Raccontaci un po' di qua del borgo, del posto in cui vivi, se ti va. Il borgo è un posto bello, mi sta piacendo come lavorano con il campo e domani ci sarà un gran campionato. Ma oggi giocate oppure oggi si prepara soltanto il campo? No, oggi lavoriamo. Oggi tutto lavoro, non ce ne sono partite? No. Ok. E normalmente com'era ridotto prima questo campo? Una schifezza. Tutto rotto. Quindi non ci giocavate? Non ci giocavate? Sì, però se cadiamo ci facciamo un male. Era tutto, prima tutto era tutto senza qualsina. Non c'era la terra prima. Palermo! 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 Cambiale un posto! Cambiale un posto! Cambiale un posto! Cambiale un posto! Grazie a tutti. 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 Parla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Alla... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Noi avre... Grazie a tutti.